Siamo qui a parlare con Luca di DLF Foto Sarzana. Il tipo di servizio fotografico che voi offrite agli sposi, che tipo di servizio è? Il nostro servizio fotografico è, noi proponiamo un servizio narrativo, ovvero cerchiamo di cogliere gli sposi dalle preparazioni alla chiesa, alle foto di rito e al ricevimento fino alla fine, che è quando la festa effettivamente finisce con gli invitati che se ne vanno, nella maniera più naturale possibile, cercando di raccogliere proprio le emozioni più che forzali a stare in posa. Soprattutto gli sposi richiedono con maggiore frequenza il libro degli sposi oppure fate un album appositamente? Com'è il discorso? Ma diciamo che il prodotto che sta andando per la maggiore negli ultimi anni è il fotolibro. Noi abbiamo integrato questa cosa con un prodotto digitale che è la copia esatta del libro, sfogliabile elettronicamente su tutti i supporti moderni, tablet, televisioni, computer eccetera, e dà una buona prospettiva del futuro. Vi occupate normalmente anche di video? Sì esatto, creiamo anche video con operatori ad hoc, logicamente, che hanno una buona risposta sul pubblico per la loro particolarità e innovazioni che portano rispetto a quello che è il classico che si è visto finora. Voi fate anche la proiezione del trailer durante la cerimonia? Sì, si può fare proiezione sia del trailer che anche riproduzione delle stesse foto che sono state fatte durante la cerimonia, o altrimenti una cosa molto particolare, molto richiesta, è la proiezione di un prematrimoniale realizzato, quindi prima del matrimonio da parte degli sposi, come omaggio agli invitati a un momento di qualche minuto estremamente divertente. Una forma di reportage la settimana prima allora? Sì, esatto, il tempo prima ha fatto con calma, ha fatto per bene, dove gli sposi già cominciano a divertirsi, come noi cerchiamo di farli vivere con divertimento tutto il loro giorno del matrimonio. E direi che questa è una novità assoluta, un reportage prematrimoniale mi sembra che sia una novità. Sì, è una bella novità che sta avendo un buon successo. Grazie. Grazie.